buongiorno e buona domenica a tutti gli amici e tutto il pubblico di torino spiritualità che in questi giorni si sta confrontando con un tema stimolante necessario anche curioso quello del respiro. Siamo qui quest'oggi in compagnia del professor Andrea Moro che è linguista, neuroscienziato, scrittore e tante tante altre cose per riflettere su un aspetto di questa nostra azione molto particolare. Se ci pensate il respiro è il gesto, l'atto più involontario che abbiamo, noi possiamo chiudere gli occhi e non vedere, tapparci le orecchie e non sentire, smettere di respirare è diciamo uno scontro, un corpo a corpo con la vita impossibile finché siamo qui a questo mondo. Oggi però col professor Moro vogliamo ragionare su una dinamica molto particolare, un aspetto molto particolare. Tanto il respiro è qualcosa di involontario, irrefrenabile e fondamentale quanto la parola è quasi il suo opposto, cioè la vocazione consapevole che l'uomo ha che in qualche modo lo differenzia dalle altre creature di questo mondo. È anche vero però che le parole, la parola è aria, è aleatoria in una certa misura e per questo mi piace cominciare questa conversazione, anzi questo racconto di Andrea Moro con Verba Volant, una frase latina molto significativa sulla quale può raccontarci qualcosa, anzi molto, vero? Grazie, spero. È una bella sfida e ti ringrazio, ci diamo del tuo e quindi lo facciamo anche nella vita virtuale che siamo costretti a vivere, dove il respiro è soltanto mediato attraverso l'elettronica. Però hai detto bene, cioè c'è un doppio binario che lega il respiro a due fatti apparentemente scorrelati, che però sono intimamente, sostanzialmente legati alla riflessione sia sulla vita che sul linguaggio e questi due binari sono proprio quelli cui facevi cenno, il primo è quello della volontà e il secondo quello del legame col linguaggio. Noi dobbiamo renderci conto che il linguaggio umano, per come lo conosciamo, la sua struttura, i suoi limiti, le sue varietà in tutte le lingue del mondo, si capisce che è fondamentalmente l'espressione di un progetto geneticamente determinato. Ovviamente ci sono le variazioni, per esempio l'associazione tra significato e suono cambia, poi ci sono variazioni grammaticali, però lo stampo con il quale tutti i bambini del mondo nascono è identico, così è identica la nostra percezione della realtà e poi la lingua fiorisce in base all'esperienza, alla storia, ma i confini di Babele, per così dire, cioè il limite dentro cui può fiorire questa struttura strepitosa che è la grammatica, è limitata. Tuttavia, una delle scoperte più straordinarie che sono state fatte nelle neuroscienze, nella linguistica cognitiva, diciamo nella neurolinguistica, è che le lingue dei segni sono lingue che hanno esattamente la stessa ricchezza strutturale delle lingue verbali, cioè si è capito che le lingue dei segni sono potenzialmente tante quante le lingue verbali, non esiste una lingua dei segni universale, noi siamo magari tentati se non la conosciamo, immaginare che casa si possa rappresentare indicando un tetto oppure abbracciare con un altro gesto, invece le lingue hanno un lessico che cambia da lingua a lingua, addirittura in italiano ci sono dei dialetti nelle lingue dei segni, quindi il nostro cervello in qualche modo quando veniamo al mondo, in questo momento si chiama lo stato zero della nostra mente quando abbiamo una specie di cervello staminale, mi piace dire, cioè che può essere, che può esprimersi in tutte le varietà possibili, avrebbe le due opzioni, noi potremmo nascere esprimendoci con i segni oppure verbalmente. Quello che si sa, per esempio, ci sono degli studi di una linguista canadese di origine italiana, Laura Petitto, che ha studiato i bambini sordi dalla nascita e ha scoperto che quella fase tenerissima dei bambini che invece si esprimono con la voce si chiama l'allazione, cioè in cui il bambino si esprime muovendo la bocca, la lingua, lo fanno con le manine. Come mai? Allora gli esseri umani hanno questa prevalenza del fiato per comunicare, perché probabilmente il respiro è il primo elemento che mette in comunicazione il mondo esterno e il mondo interno oltre al cibo. Cioè noi abbiamo due sole, anche questo è un fatto strepitoso se ci pensiamo, noi siamo come una specie di immensa clessidra, il cui un'ampolla è il nostro interno, l'altra è il nostro esterno e il punto di congiunzione tra le due ampolle è la bocca. La bocca perché entra il cibo, entra anche l'aria, ma la bocca perché esce il suono e questo suono ha come veicolo chiaramente il respiro. Questa questione, cioè che il veicolo del respiro senza dubbio indirizza immediatamente la mente del bambino a modulare il respiro per comunicare con chi gli sta intorno, diventa anche poi il limite entro cui la struttura linguistica e fonologica della lingua si deve porre. Ad esempio noi non abbiamo consonanti che non possano tener conto del fatto che noi dobbiamo prendere insieme movimenti della bocca e del fiato per poterli modulare, tant'è vero che la nozione di sillaba, cioè prendere insieme, vuol dire proprio prendere insieme dei suoni per rendere possibile la loro emissione. Allora in questo senso il respiro è il primo dei vincoli biologici che sono imposti alla struttura del linguaggio. Se noi ci pensiamo, ora io in questo momento vi sto parlando, devo prendere fiato, potrei anche esercitare una specie di capacità di apnea e cercare di tenere in lungo la mia frase fino a quando quasi non riesco a respirare, ma a un certo punto devo respirare. Ma questo respiro non ha soltanto un fatto strutturale, cioè non è soltanto, quindi abbiamo detto che è un innesco alla verbalizzazione e nell'acquisizione del linguaggio, è un fatto strutturale perché la struttura del linguaggio in qualche modo è vincolata dalla biologia del corpo. Questo è un esempio, però la cosa importante che si è capita è che tutto il corpo partecipa della struttura linguistica in qualche modo, anche se esiste un proprio linguistico che non è derivabile da niente del corpo. La cosa molto interessante, sono altre due a questo punto, la prima è che io ricordo una citazione di una grande attrice italiana che ha avuto l'occasione di conoscere, con la quale ho un rapporto di amicizia che è Giulia Lazzarini, che mi diceva che lei sentiva quando la recitazione era efficace perché il pubblico respirava insieme a lei. Ecco, quest'idea di convincere in una sinfonia di respiri, a me ha colpito molto, forse ricorderai qualche pagina di un romanzo che avevo scritto, avevo proprio detto questo, cioè tu ti rendi conto quando parli in pubblico, sarà capitato certamente anche a te, che c'è un momento magico in cui il pensiero passa e ti viene riflesso non solo dagli sguardi, ma da una specie veramente di sincronia di respiri, perché in qualche modo il respiro ti dà anche la misura della struttura della frase. Possiamo forse dire che la punteggiatura è proprio l'elettrocardiogramma del respiro parlato. Mi viene naturalmente in mente un'associazione con l'ebraico, con la lingua ebraica, nella quale c'è un paradosso di fondo iniziale, e cioè che la prima lettera dell'alfabeto, che peraltro non è quella con cui comincia la Bibbia, ma è quella con cui cominciano i comandamenti, l'Alef, è definita consonante, ma non ha alcun suono, non è una vocale, di fatto non è neanche una consonante, ma viene interpretata dalla tradizione come un gesto, il gesto della bocca che si apre per accogliere il respiro e consentire l'espressione, cioè la parola. Questo è forse lo stato zero della lingua? Direi di sì, e come al solito tu hai questa capacità di pescare nell'infinità del lessico le parole più rappresentative e icastiche, perché è espressione, è proprio etnologicamente il modo con cui tu schiacci fuori il contenuto. Mi ricordo quando al liceo, tra i quiz della professoressa di greco, mi chiese cos'era un espressore, e l'espressore era un marchengeno con cui tirava fuori l'olio dalle olive perché le schiacciavi. Ecco, il primo grido che tu metti quando nasci al mondo è un fiato che esce. Probabilmente questo è innesco. Devo dire una cosa però, che forse anche questa ti suonerà familiare, poi fa parte anche un po' della mia, forse della nostra personalità. Io l'ho solo suggerito in una nota, perché capirai anche tu che aprirai un mondo enorme, ma c'è un'altra cosa legata al respiro, e che è molto particolare, perché anche questa è legata all'essere umano come unico, è della risata. Noi sappiamo che non siamo gli unici animali parlanti, ma anche gli unici animali che ridono, e mi sono sempre chiesto se il vero innesco che incolla significante e significato non sia la risata. E sai perché? Perché il pianto può anche essere riprodotto, per essere riprodotto fondamentalmente tu puoi anche fare, intanto ce l'hanno anche gli animali, ma se tu ti pesti una mano tu piangi perché provi dolore, se però ricordi di pestarti una mano, non riprovi il dolore. Ma se pensi a una barzelletta che ti fa ridere, la ripensi, ridi ancora. Cioè il contenuto è ricostruibile, quindi chissà che questa emissione sgangherata di respiro, che è la risata, perché è uno spasmo, la risata è un momento in cui, ma di vero si può dire anche morire dal ridere, ironicamente, ma insomma questa idea del respiro come innesco del linguaggio e forse anche come collante del significato rende proprio questo slogan di verba volant, fa vedere come le parole quando volano sono ben pesanti, probabilmente hanno il peso specifico maggiore rispetto alle altre forme. E chissà che non sia proprio la modulazione del respiro che fa del linguaggio il linguaggio. Naturalmente poi a qui si aggancia anche tutto il resto, per esempio noi da qui nel momento in cui scopriamo che c'è almeno un caso in cui il linguaggio deve sottostare a delle leggi biologiche, si squaderna la possibilità che anche altri casi lo sono, la dimensione temporale, per esempio prima, dopo, durante, probabilmente tutto vincolato da come siamo fatti, fossimo tutti delle chiocciole, dei gufi o dei lombrichi avremmo un altro lessico. Noi abbiamo questo lessico anche per questo, ovviamente, però il linguaggio è anche qualcosa di più, cioè è una costruzione sintattica che fa dell'uomo l'unico animale che prende dei mattoncini e nel ricombinarli genera significati nuovi. Ecco, è proprio questo proprio linguistico a cui accennavi prima, se puoi raccontare ancora qualcosa al nostro pubblico, perché io tutte le volte che ti sento parlare di questo proprio umano, mi affascino da capo. Non è la risata, ma è il ricorrere della stessa emozione quando ascolto raccontare il tuo racconto di come siamo fatti attraverso la lingua. Guarda, devo dire che questa condivisione mi convince, ma solo per un fatto che la riprovo anch'io e io non faccio che riproporre un'emozione che ho provato con altri, a partire dai miei maestri in Italia, ad arrivare fino all'emozione di sentire parlare Chomsky quando mi ripara di linguaggio e tutte le volte mi sembra ogni volta che mi parli di una cosa nuova. Diciamo, se dovessi spiegare a un extraterrestre, supponendo che parli una lingua compatibile con la mia, di cosa siamo fatti noi, di fare questo esempio, ti do due nomi e un verbo e ti faccio vedere che a seconda dell'ordine ti passo due significati opposti. Il solito esempio che faccio è Caino, Abele uccise. Se dico Caino uccise Abele, ho tre parole in un ordine e un'idea. Abele uccise Caino, le stesse tre parole, un diverso ordine, un'idea opposta. È magia. Sì, è magia. Siamo gli unici esseri viventi in grado di produrre contenuti permutando l'ordine di un numero fisso di elementi. Questa è una magia che non è colta né da me né dai miei maestri, fu colta dall'inizio, dall'osservazione, ma questo lo spartiacque tra noi e tutte le altre forme di vita. Ed è questa permutazione, la permutazione delle lettere dell'alfabeto dovrebbe risuonarti familiare per ben altri modelli, che fa questo unico dell'essere umano. Poi tu mi avevi stimolato anche però a parlare appunto del linguaggio, perché sai, noi adesso abbiamo già fatto un salto parlando insieme, abbiamo identificato il linguaggio questo proprio, però dobbiamo anche ricordarci che il respiro che può essere visto come una delle componenti biologiche del linguaggio non è soltanto un elemento distintivo del linguaggio. Sappiamo tutti che il termine respiro in greco, che ha dato origine alla parola psuche, che poi è passata in italiano come psiche, voleva dire esattamente respiro. E perché respiro? Perché non cammino? Perché non mangio? Perché non amo? Perché non odio? Perché non dormo? Perché respiro? E mi sono convinto di questa cosa. Ti capita, no, quando pensi a così, ai modi in cui la vita ti si presenta di fronte, talvolta anche cose brutali da pensare cosa succede quando la vita la rifiuti. Il modo più semplice per rifiutare la vita, che è quello che contraddistingue, quello che tu fai per renderti conto se una persona vive o no e vedere se continua a respirare. Paradossalmente noi di tutti i gesti volontari che possiamo fare per toglierci la vita non possiamo togliercela volontariamente smettendo di respirare. Era un gioco un po' ossessivo che ti svelo, facevo da bambino, vedere quanto riuscivo a tenere il fiato, ma alla fine esplodi e rinasci. Tiri di nuovo il fiato, perché il respiro non è soggetto alla nostra volontà. E allora chi sa che l'anima, cioè quella cosa che ci strappa dalla materia, ci fa diventare vivi, non sia proprio stata identificata col respiro perché non è nel nostro dominio. Il respiro diventa psuche, diventa anima, quindi per almeno due colonne portanti. Da una parte ci esprime il significato, includiamoci anche alla risata perché altrimenti facciamo una miscela accettabile con quella che corrisponde all'altra immagine brutta del togliersi la vita. Quindi da una parte la risata, ma dall'altra l'inevitabilità della vita e del fatto di accettarla perché c'è. Naturalmente questo apre dei problemi etici enormi, però è proprio questo fatto semplice della incapacità di sospendere questa azione vitale che secondo me l'ha messa sotto gli occhi, ha fatto in modo che la parola, cioè che l'animatezza e quindi l'animale e quindi l'anima coincidano col respiro. C'è una cosa in più forse da dire appunto tra respiro, psiche e anima. Noi ci rendiamo conto che il vocabolario in questi casi è come se lasciasse degli spazi non completamente coperti, in questo senso. Intanto se a me chiedessero che differenza c'è tra psiche, anima, mente e cervello, farei fatica e non saprei dirlo definitivamente. Poi sappiamo che la tradizione del termine anima non la solleviamo neanche ma è enorme, però sappiamo che il termine animale non si riferisce tanto agli esseri umani ed evidentemente non può essere quindi etimologicamente solo legata all'idea di un'anima come di un'entità superiore, a meno di non dire che anche una zanzara ha un'anima, noi pavesi siamo esperti di questo. Sembra incredibile ma potrebbe essere anche così. E poi addirittura pensiamo che nei dialetti italiani, molti dialetti italiani per esempio ci sono degli animali per eccellenza che sono i maiali e uno lo sa perché, perché erano una fonte di cibo importante. Nel mio dialetto, in molti dialetti del nord e lombardi si chiamano nimal che evidentemente è una contrazione per animale, l'animale per eccellenza. E come, scusa se ti interrompo, è come se avesse perso quella A iniziale che sa quasi di privativo. Non ci avevo mai pensato, vedi tu stimoli sempre, probabilmente può essere anche stato riletto in questo modo, però si potrebbe andare avanti a lungo, però capisci che c'è un interessante spazio libero che sta tra la psiche e il respiro. Certo. Quindi tra il respiro e il respiro se vogliamo, c'è quell'ineffabile parte dell'essere umano che non si riduce però al respiro e che quindi ti fa dire che è vero che tu non puoi toglierti la vita smettendo di respirare. È vero che il respiro è un sintomo di vita, ma non basta per identificarti in un individuo. Così non basta e non esaurisce la descrizione della vita, per fortuna. Non abbiamo descrizioni della vita che possono essere esaurienti. Ce ne sono, adesso io immagino un nuovo festival della spiritualità basato invece sull'espiro di elettricità. L'elettricità è stata una sfida teologica enorme perché per qualcuno fu vista in alternativa al respiro come il sintomo della vita. Questo qualcuno era Galvani che a Bologna aveva parlato a mettere l'elettricità nei muscoli delle rane morte e queste si muovevano, dicevano questa qui vuol dire che vita è elettricità. E poi ci fu qualcun altro a Pavia che disse che era a Volta, disse no, non è vero, non coincide con l'elettricità e te lo dimostro. Io costruisco una cosa non viva che produce elettricità. E come faccio? Metto in pila dei dischi di rame e dei dischi di zinco con un feltro con dell'acqua acidulata. E questo per cercare di confutare una tesi teologica che faceva dell'elettricità al sintomo della vita, si inventa la batteria elettrica che forse è l'oggetto tecnologico più importante della modernità. Ma questo succede tutte le volte che tu prendi un elemento e vuoi ridurre tutta la vita a questo. Quindi in certo senso la seconda parte di questa nostra conversazione è una marcia indietro per dire sì è vero che il respiro fa partire il linguaggio, fa partire la risata, fa partire il significato. È connaturato alla vita ma non è la vita. Tanto più che adesso, scusa se ti interrompo ancora una volta, ma c'è un tema non da poco che è quello della cosiddetta morte cerebrale, per cui la vita respira ma non è più vita perché c'è un'altra morte. La vita è complessa, non a caso ancora una volta in ebraico è una parola plurale, ma anche la morte è qualcosa di complesso perché non è così, non è solo, non significa solo mancanza di respiro. Io una volta ho assistito a una tua lezione ben più interessante delle mie sulle lezioni complessi, la prolusione è un anno accademico e penso che tu abbia veramente azzeccato con questa idea della complessità come l'unica nozione con la quale noi possiamo, con la dovuta cautela, trattare una nozione come quella di respiro. Guai a considerarlo un atto monolitico non segmentabile o responsabile di un'unica cosa. Dobbiamo per forza pensare che questo sia un indizio, una traccia di chissà quale creatura che si sta manifestando. Però è molto bello che abbiate scelto questo tema proprio perché per la sua implicazione in tanti domini, per essere questo punto di snodo tra le due clessidre diventa fondamentalmente un momento affascinante della nostra lettura degli esseri umani. A proposito di clessidre, che per me mi è stata regalata, ma è un bel segno del tempo perché ci dà la percezione di quello che c'è ancora, di quello che non c'è più e forse anche di quello che verrà. Questo significa in sostanza che anche il rapporto tra respiro e volontà del quale ci hai parlato non è così univoco come parrebbe, vero? Esattamente, può essere scollato. Noi siamo di fronte a delle specie di suggestive coincidenze, coincidenze, ma nessuna è una metafora completa dell'altra, nessuno è un simbolo completo dell'altro. Guai a definire la vita come coincidente col respiro. Tu hai immediatamente trovato il caso importante, eticamente rilevante, dell'organismo che continua a respirare ma non ha altre facoltà. È evidente che se tu smetti di respirare smetti anche di vivere, ma cosa rimane di te se continui a respirare? Allora lì si apre una visione sull'essere umano e sulla vita che va al di là della misurazione biologica, che deve fare entrare l'aspetto spirituale, veramente. E in questo senso il festival della spiritualità potrebbe essere ritradotto veramente come il festival del respiro, in cui il respiro diventa proprio quel punto di snodo strano, sostanziale. Tra l'altro una cosa che mi viene in mente, tu hai nominato il tempo. Bene, nessuno di noi, nessun biologo sa bene come noi calcoliamo il tempo. Metti una persona in una stanza, senza indizi, senza luce, senza sveglie, sa che passa al tempo. Ha un orologio interno, certo uno può dire sì, va beh, gli viene fame, gli viene voglia andare in bagno, gli viene sete, però in realtà anche il respiro ha un metronomo utile. Noi acceleriamo il respiro se abbiamo ansia, noi ci rilassiamo se il respiro diventa più lento e ancora il respiro quindi diventa alle volte anche un indizio indiretto di come ci sentiamo. Se ascoltiamo il nostro respiro abbiamo questo metronomo che in qualche modo ci avvisa di come sta andando l'emozione in quel momento. Forse ascoltarsi e ascoltare il respiro nostro e degli altri potrebbe essere un atto per sincronizzarsi meglio con la vita e aumentare la percezione, come hai detto tu esattamente, della complessità irriducibile di questo fenomeno. Ascoltare e ascoltarsi e ascoltarti, cosa che noi tutti faremmo per ore, ma il tempo è anche oltre che clessidra, misura e tiranno, per cui dobbiamo purtroppo chiudere questa conversazione e questo ascolto con un grazie di cuore, un bel respiro e speriamo a presto in presenza come si dice, in quella complessità di cui siamo fatti tutti. A respirare senza filtri diremmo. E respirare senza filtri insieme davvero. Grazie di cuore, buona domenica a tutti. Grazie a te e alle organizzatori e tutti quelli che ti ascoltano. Ciao. A presto. Grazie a te e alle organizzatori. Grazie a te.